www.redigio.it e la storia continua Il tram a Legnano 50 anni fa, precisamente il 18 gennaio 1966, i legnanesi davano addio al tram della linea Milano-Legnano-Canazza. Dopo 86 anni di onorato servizio. Così come aveva soppiantato il veleggio, il servizio di carrozze a cavalli che percorreva il Sempione, la tramvia veniva ora sostituita dagli autobus. Inaugurata nel 1880, la linea tramviaria extraurbana con una macchina a vapore, la cosiddetta gamba di legno, collegava inizialmente la città di Milano-Legnano, ma venne poi estesa a Bustarsizio e a Gallerate. Nel 1915, dopo il cambiamento della società concessionaria, fu adottato un sistema di alimentazione in corrente continua e a inizi anni 30 la linea raggiunse Cassano-Magnago e Lonate-Polzolo. Queste due diramazioni e la tratta tra Legnano e Gallerate vennero chiuse nel 1951, mentre la Milano-Legnano rimane attiva per altri 15 anni. La linea Milano si portava nell'odierno Viale Certosa per impegnare la strada galleratese, passando da Pero, Rò, Nerviano, San Lorenzo, San Vittore e raggiungere Legnano, il cui attraversamento avveniva nella viabilità cittadina, come ci mostrano delle immagini del tempo. In Corso Sempione, all'altezza della Chiesa della Madonnina, in via Mussolini, oggi via Matteotti, piazza 4 Novembre, corso Vittorio Emanuele, oggi Corsa Italia, e le via Pietromica e Roma, per rientrare in corso Sempione solo all'ingresso di Castellanza. Trattandosi di una linea a binario prevalentemente singolo, i trame si incrociavano in punti precisi stabiliti dall'orario della tramvia. Grazie a tutti.